Cari amici nel mio ultimo video ho fatto un'affermazione circa la quale alcuni di voi mi hanno scritto privatamente pubblicamente chiedendomi conto di un'affermazione secondo la quale Baffetto avrebbe importato le leggi razziali dagli Stati Uniti e quindi alcuni mi hanno chiesto che cosa intendessi per questo in che senso darci qualche informazione in più eccetera quindi ho deciso di farci un video perché credo che le informazioni che andrò a considerare e ad approfondire ad argomentare in alcuni casi magari alcuni di voi li conosceranno già in molti casi però credo che daranno degli spunti di approfondimento se non altro a molti di voi per cui se apprezzerete questo video chiaramente vi chiedo di sostenere il canale iscrivendovi e diffondendo i contenuti il più possibile perché l'algoritmo non credo che mi darà una grande mano in questo a proposito dell'algoritmo cercherò di utilizzare dei termini alternativi quindi cercate di capire le mie ragioni è per evitare che venga bannata completamente cominciamo da quelle che molti non conoscono essere le leggi Jim Crow sono delle leggi che negli Stati Uniti hanno istituzionalizzato la segregazione razziale questo molto prima della esistenza stessa di Baffetto non era neanche nato stiamo parlando di leggi che entrano in vigore nel 1876 circa 150 anni fa 1876 fino al 1965 queste leggi sono state in vigore per una novantina d'anni ok quelle tedesche sono state in vigore dal 1935 al 1945 dieci anni ok le Jim Crow che stabilivano ad esempio che i bianchi dovevano stare in dei quartieri separati dai dei neri che dovevano stare in degli altri quartieri indovinate quali erano i quartieri più belli i quartieri migliori che certi dovevano andare in certe scuole gli altri dovevano andare in altre scuole indovinate quali erano le scuole migliori che non potevano avalersi gli stessi autobus e gli stessi servizi pubblici che non potevano sposarsi tutto questo era stato stabilito dagli americani prima prima di tutto quando successivamente nel 1935 fanno le leggi di Norimberga Baffetto e i suoi ovviamente prendono spunto e traggono ispirazione della legge di Jim Crow leggi che sono state approvate dalla Corte Suprema nel 1896 se non vado errato quindi non è che è stato un incidente di percorso per cui a un certo punto interviene la Corte Suprema e dice no signore forse vi siete sbagliati vi è sfuggito questo aspetto ve lo diciamo noi no la Corte Suprema ha approvato queste leggi ha approvato l'istituzionalizzazione della segregazione razziale ok tutto questo affonda fondava le sue radici nel concetto in un concetto che è anche una parvenza scientifica scienza con l'h sempre mi raccomando ed è quello dell'eugenetica eugenetica che ha come padre fondatore Francis Galton che era il cugino di Charles Darwin ok per darvi un contesto quindi la teoria della della sopravvivenza del più adatto e quindi la specie migliore il miglioramento della specie cioè cercate di capire un attimo il contesto in cui sviluppò Francis Galton questa sua teoria e l'eugenetica il termine stesso eugenetica è stato coniato nel 1883 lui aveva già scritto degli altri articoli negli anni precedenti ma nel 1883 in un suo lavoro conia questo termine eugenetica dal greco eu che vuol dire buono e genos che vuol dire razza stirpe eccetera quindi erano si trattava di pratiche volte al miglioramento della razza tra queste pratiche adesso ci arriviamo però tenete conto che Francis Galton eugenetica l'eugenetica trova terreno fertile negli Stati Uniti dove nel 1906 viene fondata la American Breeders Association che è la prima società di eugenetica al mondo sostanzialmente nasce prima ancora di quella britannica che nasce un anno dopo nel 1912 e nel 1922 si tengono il primo e il secondo congresso internazionale di eugenetica stiamo parlando quindi di anni e anni prima che Baffetto andasse al potere sulla base e sulla scorta di questa ideologia gli Stati Uniti iniziano ad implementare una serie di pratiche eugenetiche tra le quali udite udite la sterilizzazione coatta coercitiva forzata di intere fasce di popolazione tra questi ci sono i disabili ad esempio i malati mentali tutti quelli che erano considerati geneticamente inferiori gli omosessuali, i nativi americani, gli afroamericani eccetera tutte queste categorie vengono sottoposte con l'inganno a sterilizzazioni coatte forzate ma questa cosa non è che avviene soltanto i primi del novecento no, va avanti anche dopo la seconda guerra mondiale dopo che Baffetto era sparito dalla circolazione gli Stati Uniti continuano a praticare la sterilizzazione coatta della popolazione americana di fasce di popolazione americana fino agli anni settanta e tutto quello che vi dico è testimoniato da documenti pubblici perché a un certo punto grazie ad una serie di denunce si aprono indagini eccetera eccetera e finalmente emerge questa verità soltanto, pensate, tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso, stiamo parlando quindi di poco più di cinquant'anni fa soltanto in quel periodo furono sterilizzate secondo alcune stime dalle settantamila alle centomila donne native americane dal venticinque al cinquanta per cento della popolazione femminile dei nativi americani ma non venivano sterilizzate solo le donne e non venivano sterilizzati solo i nativi americani ma tutte le categorie che vi ho detto prima immaginate quante decine o in realtà centinaia di migliaia di persone sono state sterilizzate contro le loro volontà e persino ignare che questo fosse accaduto ispirati da questa pratica statunitense nel 1933, baffette i suoi appena vanno al potere una delle prime leggi che provano è la sterilizzazione forzata di fasce disagiate dalla popolazione come i disabili ecco in particolare ma questo era ispirato a quello che avevano fatto gli Stati Uniti poi sappiamo che i tedeschi portano all'estremo le pratiche eugenetiche fino ai campi di concentramento anche qui questo è l'ultimo argomento che vorrei toccare c'è secondo me una grande mistificazione collettiva perché quando dici campo di concentramento pensi a loro come se l'avessero brevettato loro ma in realtà se andiamo indietro nella storia tu mi dirai che ancora gli Stati Uniti che c'entrano gli Stati Uniti con i campi di concentramento? allora, prima di tutto pensate alle riserve indiane che sono state forme primitive di campi di concentramento molti decenni prima dei campi di concentramento gli statunitensi relegavano, internavano i nativi americani all'interno di zone molto limitate, ristrette spesso erano zone aride, semidesertiche sottoposte a sorveglianza e controllo militare i nativi americani quindi in condizioni estremamente difficili e disagiate ma se veniamo ai campi di concentramento diciamo contemporanei la storia contemporanea e moderna siamo alla fine dell'Ottocento e se voi andate banalmente a vedere su Wikipedia in ciclopedia dei regime alla voce ai campi di concentramento troverete che i primi a usare i campi di concentramento sono stati gli spagnoli e gli statunitensi alla fine dell'Ottocento in particolare gli statunitensi nella guerra filippino-americana alla fine dell'Ottocento dove hanno internato centinaia di migliaia di filippini si parla di stime tra i 200-300 mila filippini a un milione e mezzo di filippini morti una scrittrice filippina parla addirittura di 3 milioni di filippini morti nei campi a causa dei campi utilizzati dagli americani non è finita qui perché tu dici li avranno utilizzati soltanto in quell'occasione no, hanno continuato a utilizzarli anche durante la seconda guerra mondiale cioè mentre loro puntavano il dito contro il dittatore di turno in patria internavano in campi di concentramento almeno 120.000 giapponesi e oltre 11.000 tedeschi italiani migliaia di tedeschi e italiani insieme ai giapponesi nei campi di concentramento quindi li internavano sulla base della mera appartenenza etnica chiaramente sempre ed esclusivamente con la giustificazione della sicurezza nazionale ma il discrimine era l'appartenenza etnica sempre la purezza della popolazione diciamo così questi sono gli Stati Uniti allora quando parliamo degli Stati Uniti e li sentiamo descritti come la più grande democrazia del mondo dietro a questa narrazione a mio avviso fiabesca e quasi comica ci sono tra le ombre più inquietanti della storia è tragicomico pensare a come questo paese che si è sempre posto e pubblicizzato come campione di libertà di democrazia eccetera eccetera difesa dei diritti umani abbia radici in realtà così profonde nella discriminazione razziale nella segregazione nell'eugenetica spesso appunto dicevamo puntano il dito contro altri paesi danno etichette di dittatori ma la loro stessa storia li condanna e a mio avviso tu puoi dire le cose più sensate del mondo ma tutto perde terribilmente di valore quando ti manca una cosa essenziale la credibilità se non hai la credibilità taci perché quello che dici non ha valore allora come posso io dimenticare che mentre tu dicevi di combattere per la libertà in Europa stavi sterilizzando forzatamente centinaia di migliaia di individui tra l'altro tuoi cittadini come posso fingere di non sapere che nello stesso momento in cui condannavi tizio tu stavi utilizzando i campi di concentramento e li avevi utilizzati ben prima tra l'altro e allora ogni volta che gli Stati Uniti si ergono a giudici del mondo dobbiamo ricordare che la loro cosiddetta democrazia è basata e costruita su una base che include il razzismo sistematico l'oppressione delle minoranze e l'uso strumentale costante e sistematico di menzogna mista a scienza e pseudoscienza per giustificare ogni forma di ingiustizia e come disse Martin Luther King l'ingiustizia in un luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo ecco perché va denunciata sempre allora se questo video ti ha fatto riflettere ti ha dato spunti di riflessione ti ha dato spunti di approfondimento ti prego condividilo ovunque tu possa sostieni il mio canale dai un'occhiata alla descrizione ci sono dei modi pratici e specifici con cui puoi sostenermi e aiutarmi a continuare a produrre questi contenuti Veritas Vincit